Cari amici, il Centro Team Luciano presenta l'offerta d'estate 2008 imperdibile, rottamiamo il tuo vecchio cellulare fino a 100 euro un cellulare che non serve più fino a 100 euro di sconto come? è semplicissimo questo lo ci stimiamo se acquisti un Nokia 6500 che costa 299 euro lo pagherai solo 199 euro un Nokia N73 che costa 229 euro a 179 euro un Samsung U700 che costa 179 euro a 139 euro e tantissime altre offerte a partire da 29 euro Luciano, il Centro Team che conviene offerta valida per i negozi di via Dante Alighieri e per il centro commerciale alicicale Centro Team Luciano un'estate di grandi opportunità